Ciao a tutti ragazzi da Cecilia e da Elie di Fessondaghi Italia! Questo è un nuovo video che giriamo insieme io e la mia piccolina perché stamattina ho pensato di preparare una ricetta differente alla mia cucciola e quindi volevamo condividerla con voi prima di girare l'altro video della settimana, quello dedicato al corso di addestramento. Quindi sarà un blog di cucina non ben organizzato però è davvero una ricetta semplicissima da poter fare al vostro cane in pochissimo tempo e impiegherete circa 15-20 minuti per la preparazione. Perché dico una ricetta semplice per il cane? Perché questa ricetta richiede solamente tre ingredienti ed è molto gustosa da leccarsi tappi per il vostro amico peloso. Quindi quali sono gli ingredienti della nostra ricetta. Il primo ingrediente è un nuovo, mi raccomando quindi di non dare questo piatto al vostro cane troppe volte a settimana, io consiglierei una volta a settimana. Il secondo ingrediente sono i fagiolini e il terzo del rice soffiato. Fate voi le dosi, io farò questa ricetta con un nuovo però dividerò appunto quello che ne verrà fuori in più pasti per non eccedere troppo. Però se avete un cane più grosso potete darlo anche intero. Bene, allora restate con noi, vi promettiamo che non sarà un disastro come la casetta di marzapane che però vi ha fatto ridere tantissimo immagino e quindi niente restate con noi, zampateci un follow con le vostre zampette sporche di ingredienti e poi se questo video vi sarà piaciuto potete iscrivervi al nostro canale. Eccomi pronta per preparare la ricetta. Vi rifaccio vedere gli ingredienti. Abbiamo un uovo, dei fagiolini che potete sostituire con degli spinaci, vanno benissimo per il cane, del riso soffiato e poi dell'acqua che metteremo subito nella padella. Quindi iniziamo mettendo l'acqua e accendiamo il fornello. Mentre l'acqua si riscalda possiamo rompere l'uovo e amalgamarlo con la frusta. Quindi leviamo la boccia dell'uovo. Possiamo sbattere l'uovo con la frusta. Ok, aggiungiamo i fagiolini alla padella della nostra acqua. Ok, e lasciamoli cuocere per 5 minuti circa. Mettete un coperchio ai fagiolini. Ok, mentre i fagiolini continuano a cuocere farò una cosa terribile per cui vengo sempre presa in giro da Sassa e dai miei familiari. Quindi taglierò i fagiolini in piccoli pezzi con la forbice dentro la padella. Lo so, è una cosa assurda da non fare perché si graffia la padella, ma io la faccio sempre quando cucino la carne. Qualsiasi cosa preparo per Ellie la tagliuzzo in piccoli pezzi perché mi spavento che si possa affogare. Non so perché non lo faccia dopo, una volta tirato fuori il cibo, ma mi diverte questa cosa, quindi proseguirò nel farla. Nel frattempo i fagiolini continueranno a cuocersi. Mi raccomando, fate attenzione che i fagiolini siano ben cotti prima di proseguire con la ricetta. Cicci mani di forbice ha operato, questo è il risultato. Ho tagliato quasi tutti i fagiolini in piccoli pezzetti e adesso possiamo togliere un po' d'acqua dalla padella. Lasciate poca acqua giusto per evitare che l'uovo si vada ad attaccare alla padella. Quindi aggiungete l'uovo così e mescolate. Lasciate cuocere ancora per qualche minuto finché non diventa più denso. A questo punto potete prendere il riso soffiato, questo, e versarlo sulla nostra non pittata per il cane. Ok. Lasciate ancora sul fuoco per qualche minuto o due o tre minuti e poi la vostra pietanza prelipata per il cane sarà pronta. Potete far aderire il riso utilizzando un mestolo. Ecco fatto. Eccoci pronti per servire una porzione al nostro amico peloso della nostra semplicissima ricetta per il cane a base di uova, fagiolini e il riso soffiato. Ellie già piange perché vuole il cibo. Ellie si aiuta. Brava Ellie. Andiamo a vedere se Ellie gradirà la pietanza preparata. Ellie giù, 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 giù. Brava, brava, aspetta, aspetta, aspetta Ellie, aspetta. Vai! Brava Ellie! Brava! Mmm, l'ovetto! Bene Ellie, una super colazione calorica per te e per il tuo pancino! Ciao a tutti cari amici, non dimenticate di zamparci un like e di iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!